Finalmente siamo a Piazza Semaforo, qui a Lentiscosa, per dare il via ai lavori del centro di aggregazione. Questa piazza che esiste da oltre 35 anni era così adibita ad un parcheggio improvvisato. Tra pochi mesi invece diventerà un bellissimo centro di aggregazione per i giovani, dove all'interno si potranno fare tantissime attività sociali, venire qui a fare pittura, venire qui a fare teatro, incontrarsi anche con gli anziani. Magari potranno nascere tavoli di lavoro tra i giovani per concorrere a portare idee per migliorare il nostro Paese. È un momento di grande soddisfazione, un lavoro che abbiamo condotto con l'assessore Perazzo, è un lavoro che avevamo promesso fortemente, è l'ennesima opera che iniziamo e che consegneremo al Paese, e speriamo entro Natale di quest'anno. È davvero un bel lavoro, ringrazio tutti gli sponsor, perché questo è un progetto che abbiamo fatto attraverso un regolamento di sponsorizzazioni. Abbiamo già i primi tre sponsor, il primo si occuperà delle pareti divisorie, e quindi i lavori, come vedete, sono già iniziati. Abbiamo avuto la sponsorizzazione per l'impianto elettrico e la pavimentazione. Dobbiamo completare poi con l'arredo e con quant'altro. Cercheremo di fare il più possibile per togliere meno risorse possibili a lente. Sono tantissime le cose fatte. Stiamo lavorando sulla lentiscosa Camerota, abbiamo asfaltato e bitumato tante strade, abbiamo eliminato le condotte idriche in amianto, abbiamo dato l'acqua in località Campo Sportivo a tantissime famiglie, il gas, abbiamo migliorato le scuole, il plesso scolastico, dove l'assessore Perazzo ha fatto un grandissimo lavoro, anche le navette e le mense che funzionano. Adesso questo centro di aggregazione, ma non ci fermiamo qui, dopo la messa in funzione della strada in località Santa Rosalia, la Cersulla, in questi prossimi giorni daremo il via ad un altro grandissimo progetto, ma che non vogliamo in questo momento anticipare, perché vogliamo avere l'assoluta certezza. Ringrazio ancora una volta gli sponsor, avanti così e avanti per l'entiscosa. Finalmente, dopo tanti anni, siamo qua a Piazza Semafero, in quello che è stato sempre il parcheggio sotto la piazza, un luogo lasciato al degrado da tantissimi anni. Finalmente questo posto viene valorizzato e viene dato a luce a quello che fino ad adesso era solo un parcheggio lasciato all'incuria. Il nostro intento è quello di trasformare questo parcheggio in un centro polifunzionale, finalmente un luogo di aggregazione che fino ad adesso è mancato in questo paese. Questo è quello che noi sogniamo per l'entiscosa, un posto dove tutte le associazioni possano trovare una casa, possano svolgere qualsiasi tipo di attività, come ad esempio il corso di pittura che veniva svolto a scuola fino all'arrivo della pandemia, delle signore che si riuniscono per l'unginetto, come qualsiasi altra attività. Potranno finalmente essere svolte in un luogo sicuro, caldo, e che potrà accogliere qualsiasi associazione, ma anche qualsiasi libero cittadino che intenda svolgere un'attività per il bene del paese. Anche grazie a questa operazione che l'entiscosa è al centro dell'agenda politica di questa amministrazione, in questi anni abbiamo svolto tantissime migliorie per il paese, anche nel plesso scolastico dove abbiamo riaperto la palestra che era stata chiusa a causa infiltrazioni del tetto. Grazie all'intervento del sindaco abbiamo comprato nuove attrezzature per i ragazzi, abbiamo adeguato l'ingresso e abbattuto le barriere architettoniche. Stiamo svolgendo in questi mesi delle piccole operazioni all'interno di tutto il paese di valorizzazione di piccoli scorci che erano appunto abbandonati. In ultimo vorrei dire un grazie, un grazie al sindaco che ha creduto fin dal primo momento nella realizzazione di questa struttura e lo ha voluto fortemente. Ci sono voluti quattro anni per dare inizio ai lavori, ma finalmente ce l'abbiamo fatta e gran parte di questo merito va a lui. Quindi grazie.